Allora, come vuole la tradizione per il Nord, Madre Natura, Marika, un grande applauso! A rappresentare questa sera il Nord è lei, Marika, giovanissima, arriva da Torino e questa sera rappresenterà il Nord. Un grande applauso a Marika! Eccola qua, Marika, accomodati pure, sei pronta a rappresentare la categoria del Nord? Sì, sono prontissima. Perché votare il Nord questa sera? Lancia un messaggio a tutti i telespettatori che in questo momento ci stanno ascoltando. Votare il Nord perché è un magnifico paese, ci sono dei bellissimi paesaggi e ovviamente anche la gente è stupenda. Ok, un grande applauso per il Nord a rappresentare il Sud questa sera, lui, Manuel! Padre Natura, lui è Manuel. Per gli amici di Summer 10 TV, lo conoscete già? Grande applauso! Manuel rappresenta l'uomo mediterraneo. Un grande applauso a Manuel a rappresentare il Sud. Perché scegliere il Sud? Perché siamo persone di cuore, accogliamo molto bene le persone, siamo ospitali soprattutto e questo lo posso confermare alla gara. Ok, quindi sei pronto a rappresentare tutto il Sud questa sera? Sì, 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 tantissimo. Un grande applauso a Manuel, ti abbiamo... Ti abbiamo trovato la sede. Allora, c'era Ada che voleva dire qualcosa? Ah, dicevo, a proposito di madre natura e padre natura. Boia Faos! Ti piace il padre? Vero, vero, confermo. Allora. Ti piace il padre natura? A chi diamo... Eh beh, siamo già in vantaggio, voglio dire. Siamo già in vantaggio, stiamo già vincendo. No, no. Cioè, stiamo... Chi vince? Ecco, mi sono schierato, ho sbagliato Stefano, mi sono schierato, io sono del nord, sono di Rovigo, non so se si può dire che Rovigo è nel nord. Perché i Rovigotti non li vogliono neanche in Veneto, non li vogliono. Sai quando Pino dici, Tony, avete un'ombra, vivila, perché da noi l'ombra è il bicchiere di vino nero, no? Allora, comunque io tifo per tutte e due, però essendo del nord vedo già... è già in vantaggio al nord. La nostra giuria dà un punto già al nord, diamo il punto, ok. Un grande applauso al nord con Varika. Grazie.